ciao a tutti e bentornati sul canale eccoci qua a colazione questa mattina mangio delle cose golose un po natalizie per questo è un biscotto natalizio anche questi sono al pan pepato ricoperti di cioccolata e di glassa poi c'è il frutto del drago il dragon fruit io ormai me lo compro spesso mi piace qua c'è un po di latte e in mezzo ho messo questa cioccolata calda che sai di strudel in particolare molto profumata e molto dolce questi sono i biscottini e stile ho comprati da ultimo in un viaggio in olanda e poi c'è il porridge stavolta l'ho fatto con il latte questi sono i biscotti che vi dicevo prima morbidi insomma vabbè questa è la colazione di oggi vediamo il pranzo a pranzo qua c'è l'insalata mista con un po di melanzane i semini questi qua di sesamo poi c'è il l'avocado un uovo strappazzato l'insalata mista carciofini e due fettine di pane tostato e adesso io faccio una cosa metto l'avocado spalmo l'avocado sul pane tostato e ci mettono sopra l'uovo e poi mangio questo come dire questa tartina questo toast nel pomeriggio faccio merenda con un po di mandorle è un tè un tè alla mente mi piace molto e poi farò vedere anche la cena è la mia cena con zucchine lenticchie insalata mista e una polpetta che è di pollo pollo alla kiev con in mezzo un cuore cremoso di formaggio e con questa cena io vi saluto spero che il cosa mangio in un giorno vi sia piaciuto se così lasciate un like iscrivetevi al canale se vi va commentate e vi do appuntamento al prossimo video ciao a tutti